un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su castle clash in questo video ragazzi siamo con l'account di loswaga 97 che ringrazio per rollarci 33 mila gem ragazzi ovviamente siamo in cerca di ronin e anubis gli ultimi due eroi usciti ma prima di fare questo andiamo a liberare il magazzino aprendo un bel po di roba allora intanto vendiamo questo allora apriamo queste 16 questi 16 più 10 pietre dell'anima si trae tutti quanti sparpagliati pietre dell'anima di ogni eroe non l'avevo mai aperto uno scrigno del genere ok apriamo altri 6 non c'è però non ci sono eroi particolarmente brutali allora andiamo con questo qui così liberiamo sluts uno poi 16 di questi una carta dungeon un'altra carta dungeon e una giorno a missione 32 scrigni verdi ovviamente qui nessuna sorpresa ok 60 ultimi due finiti poi abbiamo 6 carte eroe leggendario ragazzi possono uscirci tutti quanti questi eroi teschio barba golem mai visti da queste carte andiamo un po a vedere se smentiamo tutte e sei insieme attenzione un aries un aries uscito aries interessante un reggine arpia non sputarci sopra è null'altro di diciamo di significativo 14 scrigni i primi 10 ok questi sono gli scrignettini poi abbiamo 16 carte casse queste qui da segnalare dispersione e rigenerazione utili mentre qui un bel nulla ok ora andiamoci a rollare un po di eroi vediamo un po ragazzi se esce ronino a nubi si iniziamo subito con 4 e 50 è il primo niente ragazzi singolo un bel nulla vediamo il triplone niente da fare il tecnico ragazzi si affaccia un verde licantropo linfa il triplone nulla da fare assassino carnefice regina serpente linfa il triplone attenzione un inutile ninja ragazzi un inutile ninja il panda bel triplone niente da fare campione gelatino su panda sciamano cecchino andiamo un po di singoli licantropo panda campione ragazzi niente da fare dai ronin fammi questo regalo cavalier teschio non ci serve dai sbuca fuori ronin con i triploni e invece no invece no singoli attenzione una marea di blu ragazzi una marea di blu inizia a diventare una lotteria riuscire a beccare il nuovo eroe speriamo di trovarlo demone dei ghiacci triplone ragazzi niente da fare solo blu solo blu vediamo un po campione gelatinoso linfa attenzione il duca zucca il duca zucca non è ciò che ci serve 4 e 50 solo blu solo blu attenzione candy cane candy cane inutile sirena sirena stanno uscendo ma non quello che ci serve dai ronin ora bam medusa invece medusa medusa maledizione maledizione orco della rovina nooo devi uscire ti prego dai pure annubis ragazzi anche annubis tanta roba dai annubis ronin annubis dai 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 450 licon troppo ciclope grazie un bel respiro 18.781 gems sono usciti un po di eroi ma adesso riuscirò in con questo 450 dai attenzione atlanticulo atlanticulo non è ciò che ci serve panda sciamano predone vai col triplone attenzione gozilla medusa campione gelatinoso ragazzi è uscito anche il triplone ma niente da fare non vuole uscire questo nuovo fottutissimo eroe dai esci fuori maledetto no niente da fare regina arpia regina arpia no non vogliamo regina arpia 15k gems vogliamo ronin e annubis signori sirena un'altra sirena ragazzi si è incantato si è incantato attenzione al paladino il palaculo dai dai triplone un altro triplone niente facciamolo calmare con un singolo un altro singolo un altro singolo e quando meno se lo aspetta sulle 12.781 gems bam il triplo che invece no invece no linfa di cristallo demone di chi è ci bam niente ragazzi dopo questo triplone atti ma medusa ragazzi come se non ci fosse un domani cioè ma com'è possibile che esce soltanto medusa ci stanno 570 mila eroi dobbiamo assolutamente trovarlo ora attenzione il vieticulo brizzolato 150 150 150 stregone ragazzi stanno uscendo a pressione eroi leggendari ronin ora facci questo regalo bam e invece alchimista attenzione un altro cavalier teschio un altro cavalier teschio ragazzi un rolling da brividi stanno uscendo leggendari a pressione ma non quello che ci serve proviamo qualche singolo 150 150 esci fuori ronin anubis ronin 450 niente da fare 150 8431 gems vai col 450 solo un campione gelati minchia dai 150 ragazzi è impossibile da trovare è impossibile 7k gems sono uscite 70 mila medusa adesso mi devo spiegare perché non erano 70 mila ronin dai che invece no invece no 6k gems inizio ad avere paura inizio una volta ragazzi si riuscivano ad avverare i sogni oggi è davvero difficile 6k gem ragazzi le ultime le ultime direi 450 450 deve uscire ronin anubis con in mezzo un atlanticulo vai a golem no no golem uno di quegli eroi veramente rari e leggendari che ci incula tutte le probabilità di trovare ronin in questo roll attenzione il dukazucca il dukazucca proviamo 150 500 gems strega del cielo sciamano licantropo vai credo in te credo in te so che uscirai fuori con questo roll invece no strega del culo linfa di cristallo cecchino faraone 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 ragazzi 2700 gems 2700 gems ce la dobbiamo fare dobbiamo trovarlo un miracolo ronin andava portato in salvo vai snow bam invece no 150 di frago ci fuori 450 ultimissimi ragazzi 450 ultimo 450 450 niente da fare ragazzi niente da fare ultimissimi direi 3 roll e quindi ragazzi un ultimo triplone ci sono le carte aggiornata lento quindi un ultimo triplone speriamo di trovarlo adesso perché ragazzi adesso mai più 450 a regina arpia regina arpia sono uscite soltanto medusa regina arpia e sirena che oltretutto hanno tutte e tre la stessa identica faccia ragazzi è incredibile incredibile con questo triplo colore chiudiamo questo video senza essere riusciti a trovare un nuovo eroe e neanche a nubis ragazzi non mi succede davvero mai e prima di chiudere andiamo a usare queste 17 carte aggiornata lento direi di usarne 15 15 carte aggiornata lento per vedere un po di risolvere un talento a questione che però vedo sono messi abbastanza bene ok questo furia su rodolfo non ci sta per niente e quindi iniziamo a rollare talenti spiegare 1 non ci facciamo un bel nulla rigenerazione 2 direi che non serve andiamo avanti autodistruzione 4 sostituiamo per dare un po di potere e continuiamo bastione 1 che non serve a nulla tenacia 5 un talento a 5 io andrei a dare a sostituire a lady lio nel frattempo così non ci sta proprio malissimo e continuiamo dio della guerra 2 furia 3 che non ci serve diamo un po guardiano del fuoco 1 scottatura 1 spargimento di sangue dio della guerra 1 peggio che andare di notte bastione 2 guardiano del fuoco 4 lo sostituiamo qui per dare un po di potere ultime carte spiegare 2 che non serve e pelle coriacea ragazzi due carte gliele voglio lasciare e quindi ringrazio e saluto lo swaga 97 per avermi fatto fare questo video mi dispiace di non aver trovato i nuovi due nuovi eroi ragazzi ma davvero le probabilità adesso si riducono tantissimo ogni volta che esce un nuovo eroe e risulta davvero molto molto tosto riuscire a trovarli quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento fatemi sapere che ne pensate io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao